Alcopraveggi grande protagonista con le sue parate di questa partita che ha permesso di vincere allo scandiano soffrendo un po' però ci stava come partita Sì, una bella partita ad alta intensità l'abbiamo allenata molto in settimana, no, nella pausa di Pasqua l'abbiamo allenata tanto e adesso dobbiamo continuare a vincere Cresciuta soprattutto nella testa, ha iniziato bene, ha saputo soffrire e colpire il movimento giusto questo cinismo è quello che ci voleva proprio dopo questo periodo di appannamento Sì, era quello che ci mancava forse un po' di più a inizio stagione ma col tempo esattamente l'abbiamo lavorato e vediamo di continuare a far così Adesso ci aspettano sei finali, non ci sono i play-off però è come se ci fossero perché sono tutti da dentro fuori e si comincia da Modena dove sicuramente si vorranno togliere qualche rivincita Esatto, una pista difficile, una squadra difficile e adesso abbiamo la settimana intera per prepararci e dobbiamo farlo al meglio per sfruttare l'opportunità di sabato prossimo Grazie